Salve a tutti! Nei commenti sul mio canale ho ricevuto questa domanda. Si tratta delle trattative a Istanbul nel 2022, dove, come sapete bene, la delegazione russa ha proposto le sue condizioni per terminare la guerra. Sì, terminare. Quel giorno in Turchia non è stato sottoscritto niente. Proprio da quel giorno si è diffusa una domanda. Perché? Per gli ucraini che vivono questa guerra sulla loro pelle, la risposta è evidente. Qui ogni persona ricorda bene quei giorni e sa cosa è successo. Però in Europa, che è un po' distante dal campo dell'informazione ucraina, sembra che qualcuno abbia a gettare fango nell'acqua pulita. Io sono Katia Nesterenko, iscrivetevi al mio canale YouTube. Cerchiamo di chiarire cosa è avvenuto a Istanbul nel 2022, all'inizio dell'invasione russa su larga scala dell'Ucraina. La storia parte dall'intervista di David Arakhania, politico ucraino che faceva parte del gruppo presente a Istanbul. Ecco un pezzo di quell'intervista, uscita il 23 novembre 2023. Quando siamo tornati da Istanbul, Boris Johnson è venuto a Kiev, ha detto che non avremmo firmato nulla con loro, saremmo solo in battaglia. Ho capito bene che la visita di Boris Johnson è stata come il lavoro dei pompieri che sono intervenuti in quel momento. Dirò così, lo dico non da me, ma da parte di quella gente che oggi rappresenta l'opposizione al potere politico in Ucraina. Quella gente che è nel paese e diceva che voi potevate sottoscrivere quegli accordi traditori su stato neutrale. Però come un pompiere è venuto Johnson e ha detto nessuna trattativa. Non è stato così, questo lo dice la gente che vuole sfruttare qualsiasi situazione per i suoi obiettivi politici. Per sottoscrivere quello, guardi, né io né nessun altro membro della delegazione potevamo farlo. Non abbiamo il diritto giuridico di sottoscrivere qualcosa. Ora cerchiamo di capire come Boris Johnson, che è venuto a Kiev dopo l'incontro a Istanbul, si è diventato il protagonista in questa storia. I primi a urlare che Boris Johnson aveva vietato a Kiev di sottoscrivere gli accordi sono stati i politici russi. Nel novembre dell'anno scorso la rappresentante ufficiale del Ministero dei Restri russo, Maria Zakharova, ha affermato che Mosca aveva prestato attenzione alle dichiarazioni del capo della fazione del partito filo presidenziale servitore del popolo alla Verkhovna Rada, a Rakhania, che afferma che è stato l'ex primo ministro britannico, Boris Johnson, a vietare a Kiev di fermare accordi di pace con la Russia in seguito ai negoziati di Istanbul alla fine di marzo 2022 e a chiedere la continuazione delle ostilità contro la Russia. Maria stava preparando il campo dell'informazione. Questo è il suo vero lavoro, oltre a ballare e bere vodka. Quando la recita di Maria ha messo radici nella stampa è uscito Putin, nella sua famosa intervista a Taker Karolson. Abbiamo negoziato con l'Ucraina a Istanbul, ci siamo trovati d'accordo, lui lo sapeva, inoltre il capo del gruppo negoziale, il signor Arahamia, credo sia questo il suo cognome, quello che ancora è il capo della fazione del partito di governo del presidente, nella Verkhovna Rada, lui è ancora capo della fazione presidenziale della Rada, nel Parlamento del Paese. Ha anche messo la sua firma preliminare su questo documento di cui sto parlando, ma poi ha annunciato pubblicamente al mondo che eravamo pronti a firmare questo documento, ma il signor Johnson, a quel tempo il primo ministro della Gran Bretagna, è arrivato e ci ha dissuaso da questo. E successivamente il signor presidente dell'Ucraina ha emesso un decreto che vieta i negoziati con noi. Ebbene, lasciamo che questo decreto venga annullato e basta, non abbiamo mai rifiutato di negoziare. Avete sentito? Avete capito come sta manipolando? Il decreto di Zelensky vieta negoziare con Putin, non con la federazione russa. Putin, anziché dire con me, sta dicendo con noi. Disturbo bipolare? Può essere. E poi come gioca con le parole su Arakamiya, come se Boris Johnson fosse stato direttamente a Istanbul a tenere la mano di Arakamiya dicendo non mettere la firma. Ma Arakamiya non ha detto così e voi lo avete sentito all'inizio di questo video. Ma la macchina della narrazione russa corre senza freni e per completare il quadro manca solo un po' di teoria del complotto con un tocco di volgarità, sempre in stile di Putin. Ecco qua. Perché lui ha fatto così? Ma che cavolo ne so. Un ordine generale. Per qualche ragione tutti hanno l'illusione che la Russia possa essere sconfitta sul campo di battaglia. Per arroganza o per una mente ristretta. Da un grande cuore ma non da una grande mente. Un ordine generale. Tutto, tutto, niente, niente. E poi quella, ma che cavolo ne so. Questa è stata la risposta di un politico che si presenta come forza e prepotenza, però rimane al livello della sua altezza di 168 centimetri. Ma cosa c'entra allora Boris Johnson? In realtà questa domanda io dovrei porre a quella gente che ha cucinato questo piatto nella cucina del Cremlino. Però i colleghi in Gran Bretagna hanno fatto le domande direttamente a Boris Johnson. Questa non è altro che sciocchezza e propaganda russa, ha detto Johnson in un'intervista al quotidiano Times. Boris Johnson è stato uno dei primi leader occidentali a visitare l'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. E proprio questo fatto al Cremlino viene descritto come la influenza anglosassone sul governo ucraino. Johnson ha spiegato ai giornalisti che durante le discussioni con Zelensky dopo i colloqui di Istanbul, lui era un po' preoccupato per la natura di un potenziale accordo tra Kyiv e Mosca e ha promesso che la Gran Bretagna avrebbe sostenuto l'Ucraina al 1000%. Non potevo nemmeno lontanamente immaginare che tipo di accordo potesse esserci e pensavo che qualsiasi accordo con Putin sarebbe stato piuttosto sgradevole, ha detto l'ex primo ministro in un'intervista ad un quotidiano il Wall Street Journal. Arkhamia in un'intervista al Times ha detto che la Russia ha distorto il significato delle parole di Johnson, perché quelle parole sono state pronunciate nel contesto dei negoziati tra Kyiv e gli aliati occidentali sulla lotta all'aggressione russa. Ma Putin canta la sua chastushka e suona la stessa balalaika. Durante la visita a Mosca dalla delegazione africana lui ha tirato fuori un pezzo di carta, il quale secondo lui sarebbe un progetto di accordo di pace con l'Ucraina, probabilmente pronto, basato sui risultati dei negoziati in Bielorussia che sarebbe stato siglato a Istanbul. La delegazione africana era un po' confusa, dovrei mettere. Senza data, senza il codice d'uscita, senza niente, ma anche voi potete stampare una cosa del genere e mostrarla ai vicini di casa con le parole sono Napoleone Bonaparte. Ma torniamo ai fatti. L'ufficio del presidente dell'Ucraina nega che nel marzo 2022 fossero vicini alla conclusione di un accordo di pace con la federazione russa durante i negoziati a Istanbul. Questa è la dichiarazione ufficiale. Il capo consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolak, che faceva parte della delegazione ucraina in Turchia, ecco cosa ha detto. A quel tempo la questione chiave che eravamo pronti a discutere e risolvere era il ritiro delle truppe dal momento in cui avevano invaso l'Ucraina, il 24 febbraio 2022. Questo potrebbe essere registrato legalmente. Non c'erano altre fissazioni o discussioni. La trappola russa a Istanbul non ha funzionato, però l'operazione speciale psicologica, sì, come no, se adesso stiamo parlando di questo. Per quanto riguarda i negoziati, tutti i negoziati che la Russia vuole sono la solita capitolazione. Ecco cosa vogliono. E poi le parole negoziati e accordo di pace sembrano strane da sentire da un paese che ha già violato dozzine di accordi, memorandum e contratti. Qualsiasi conversazione con loro deve essere garantita con concretezza. Se no, vedremo di nuovo Irpin, Gostomel, Bucha e Kharkiv. Lì è finita l'operazione di ricerca. Le bombe russe in un centro commerciale hanno ucciso 19 persone. Altre 54 persone sono rimaste ferite. Tutto questo è avvenuto nel fine settimana, quando il supermercato era pieno e le bombe russe ancora e ancora stanno colpendo la città. Ogni giorno. Questo vi fa capire il cinismo della federazione russa che mente di voler trattare, negoziare e arrivare alla pace.